Si intitola Blue Beats ed è un'iniziativa che si tiene oggi a Dischiaponte presso la sala del seminario a cura dell'area marina protetta. Ne parliamo con Miccio che è il direttore dell'area marina protetta di Punta Campanella però ha anche in questa occasione un governo sull'area del Regno di 31. Si, è una manifestazione che ha lo scopo di coinvolgere quanti più cittadini è possibile nella scoperta e nell'appassionarsi ai fondali dell'area marina. Nasce da un'iniziativa che è nata anni fa nel mondo ambientalista che è quella di coinvolgere i cittadini nello studio, nella ricerca all'interno dei boschi quindi terrestre e noi l'abbiamo trasferita a mare cercando di coinvolgere quanti più volontari possibile e oggi guarderemo assieme tutte le foto dei fondali che ci hanno portato insieme con gli esperti del settore, le professioni universitari, l'Anton Dorn, ricercatori del CNR insieme guarderemo tutto quello che siamo riusciti a cogliere in 24 ore di immersione. Ci sono anche dei premi, ho visto o sbaglio? I premi sono per i bimbi che hanno partecipato al nostro corso di educazione ambientale che giustamente vanno premiati per la costanza e la voglia che hanno avuto. Ecco, parliamo un po' dell'importanza dell'area marina protetta e anche insomma un po' quella che è stata una vicissitudine piuttosto movimentata di Ischia. Sì, ma non è tanto importante l'area marina, è importante la cultura che si riesce a diffondere in una determinata zona che deve portare a un miglioramento, a una qualità della vita del turismo, della vita dei cittadini. Quindi l'area marina è uno strumento per fare questo, non è importante che esista l'area marina in quanto tale perché deve proteggere chissà cosa. Ecco, non un'istituzione ma diciamo un sentimento. Sì, è giusto, perfetto, è proprio così. Non un'istituzione solo perché deve esistere l'istituzione perché altrimenti non avrebbe senso.